A Ischia si temeva molto il 4-3-3 della Versa, poi alla fine l'Ischia ha giocato 3 dietro e vi ha messo in difficoltà con i due esterni soprattutto. Sì, è chiaro che loro avevano una superiorità numerica sugli esterni, noi ce l'avevamo centralmente soprattutto a centrocampo, i primi 20-25 minuti mi sembra che l'abbiamo fatto bene, poi dopo loro ci hanno messo in difficoltà con qualche cambio di gioco, soprattutto con Di Agostini, in due o tre occasioni ci hanno messo in difficoltà, poi siamo passati gli ultimi 20 minuti a difenderci a 4, mi sembra che abbiamo rischiato più nulla. Sì, è vero, però va detto questo, che i tre davanti vostri hanno dimostrato di avere grande qualità, però come se avessero giocato con una marcia in meno, non riuscendo a dare quelle accelerazioni che potevano mettere in difficoltà la difesa dell'Ischia. No, a tratti l'abbiamo fatto, è chiaro che c'è anche un avversario, un avversario organizzato, agguerrito, che giocava in casa dopo aver perso immediatamente contro il Benevento, quindi diamo merito anche all'Ischia che ci ha creato qualche difficoltà. Noi penso al primo tempo ce la siamo giocati con buona personalità, al secondo tempo ci siamo tirati un po' troppo indietro, abbiamo subito a cavallo praticamente nel quindicesimo e nel ventesimo due situazioni pericolose dove loro potevano anche far gol, poi mi sembra che negli ultimi minuti sia stata una partita equilibrata dove abbiamo avuto tutto bene il campo. Se diciamo piacenti migliori in campo? Sì, per le due parate fatte in 3-4 minuti ci può stare, però nel complesso la squadra ha concesso due palle gol, ci sta fuori casa di concedere due situazioni e anche un tiro dalla distanza, quindi complimenti all'Ischia che su questo campo farà soffrire tutti, dimostrazione anche il Benevento ha fatto fatica, quindi onore alla mia squadra che ha giocato con personalità nel primo tempo, ha saputo anche soffrire nella seconda frazione. Ionischia che secondo lei riuscirà a dire la sua, è una squadra che corre però dimostra di avere poca forza offensiva, poco cinica in attacco. Ma questo non spetta a me dirlo, sicuramente il campionato è molto equilibrato, c'è da battagliare su ogni campo contro chiunque in qualsiasi momento, dal venerdì al lunedì a qualsiasi orario, quindi ci si adatta a qualsiasi tipo di difficoltà, le partite vanno giocate, a prescindere dagli organici giovani o esperti, quando si mette la palla al centro le parole finiscono e quindi si passa alle vie di fatto, il campionato ha preso questa piega, tutti quanti si devono sudare il risultato e noi siamo entrati in quest'ottica già da tre settimane.